Scusami ma non posso stare zitto, non è che dovremmo bruciare, dovremmo mettermi in galera perché come dice il nostro comune mico Euron Nupi, Mario Grati è un criminale seriale e guardate che questa cosa, oltre a dire io, la detta anche molti anni fa, prima che morisse l'ha detta addirittura Francesco Gossica, questa cosa è stata anche frusciata la notizia perché il giornalista che conduceva uno mattino all'epoca, parlando di fine anni 80 prima che morisse Gossica, l'ha chiamato per dire, si dava per tu, Francesco cosa mi dici perché purtroppo anche all'epoca si parlava di Mario Draghi, Presidente del Consiglio e Gossica rispose, testuali parole, c'è in cui su Youtube, un vile, un vile affarista che sta facendo di tutto per svendere i beni dell'Italia, queste sono parole di Francesco Gossica non mie, io le ripeto e poi mi aggiorno, Euron Nupi, Presidente dell'Alus, nonché senatore dice che Mario Draghi è un criminale seriale, ecco, scusate, ormai che trovate il microfono vorrei dire alcuni congetti che sono famicari a tutti, quando voi accendete la televisione e si parla di crisi, da che cosa, come viene giustificata questa crisi? allora, intanto perché non cresciamo, e vabbè, persone che simpatizzano per il Movimento 5 Stelle sanno benissimo che la crescita locura, che è una grandissima stupidaggine anzi, dovremmo magari perseguire la decrescita felice, quindi non mi soffermo sulla crescita ma l'altra parola magica qual è? Il dedo pubblico, no? tant'è vero che si dice il rapporto debito-bill beh, ma questo debito pubblico, anche se era fra le linee di tutto quello che ha detto Fabiuccio alla fine, una parola semplice, è solamente una truffa perché il tipo pubblico viene costruito da dei falsari, da dei criminati schiavizzando i popoli, perché ogni stato, come per esempio l'Italia per avere la moneta deve andare a indebitarsi con dei privati e fra l'altro, visto che la massa monetaria è limitata è proprio matematicamente impossibile ripagare il dedito perché in più è anche maggiorato dai interessi quindi proprio la massa monetaria che servirebbe per ripagare il debito maggiorato gli interessi non esiste quindi il debito non solo è una truffa ma è anche non pagabile ma proprio matematicamente, non perché non abbiamo voglia di pagarlo e poi ci sono dei conti che ha fatto il nostro comune Mimo Salvatore Dal Curro lui ha analizzato che noi dal 1980 al 2013 noi intendo dire lo Stato italiano abbiamo pagato 3.100 miliardi di interessi sul debito cioè il debito non è mai stato intaccato anzi come sapete cresce sempre siamo arrivati a 2.100 e rotti quindi il debito continua a salire non viene mai intaccato il capitale paghiamo solo gli interessi e solo dall'80 al 2013 abbiamo pagato 3.100 miliardi cioè molto di più dello stesso debito pubblico questa è una cosa, quindi già basterebbe non pagare gli interessi e noi già non avremo neanche il debito in più il debito viene fuori da una truffa perché come dice un altro nostro comune Mimo Marco Saba le banche italiane occultano cioè fanno fasso in bilancio esattamente quel fasso in bilancio che non è nata tanto per Postoni che va depenalizzato beh ma comunque le banche solo quelle italiane occultano 2.000 miliardi attenzione non milioni, 2.000 miliardi di euro ogni singolo anno cioè l'intero debito pubblico italiano viene occultato dalle banche ogni anno ovviamente essendo dei fondi occultati le banche non pagano le tasse di tutti questi soldi quindi altro che evasione fiscale che vanno a perseguitare magari il gelataio che non fa lo scontrino di un euro e mezzo per il gelato quando ci sono le banche solo a banco di credit 500 miliardi ogni anno la somma di tutto il sistema bancario italiano 2.000 miliardi che è una cifra enorme l'intero debito pubblico ogni singolo anno viene rubato dai banchieri e poi sempre cercando di parlare di un'altra cosa con cui tutti siamo familiari a parte la parola del debito pubblico quando voi andate in banca e fate questo è solamente una dimostrazione pratica di una cosa che ho già detto Fabio quando voi andate in banca a versare 100 euro sul vostro conto cosa fa la banca? vi mette immediatamente sul vostro conto corrente più 100 euro ok? ma i 100 euro cartacei che voi avete depositato sono nelle rasta della banca se dopo due minuti va un cliente e chiede 100 euro loro danno i 100 euro di carta per il cliente cosa è successo? istantaneamente la massa monetaria in piccolo è stata raddoppiata perché ci sono i vostri 100 euro informatici sul vostro conto più i 100 euro che sono stati dati per il cliente quindi con uno schiotto di dita la banca ha raddoppiato i vostri 100 euro neanche Gesù Cristo è in grado di fare così lui al massimo moltiplicava un po' di pesce e di bani e trasformava un po' di acqua in vino quindi le banche hanno superato Gesù Cristo perché raddoppiano i soldi istantaneamente moltiplicate i vostri 100 euro per tutti gli altri euro che ognuno di noi magari vada a profitare in banca e capite che l'introduzione della moneta elettronica non controllata perché non è che io sono contrario all'innovazione una moneta elettronica controllata sarebbe utile e comoda ma la moneta elettronica come oggi che genera il cosiddetto signoraggio secondario perché almeno sulle banconote spendono 30 centesimi e poi ce le prestano al valore di 100 euro ma la moneta elettronica non costa niente quindi questo viene chiamato signoraggio secondario non hanno neanche i 30 centesimi di costo per i 100 euro che ci danno sono proprio una fregatura al 100% ecco quindi quando però se voi andate sul twitter ci sono tutti i troll eccetera che usano la parola signoraggio come etichetta per etichettare i complottisti ah ma tu credi ancora signoraggio e ci sono anche persone anche dei giornalisti molto molto informati e molto in canna come per esempio Paolo Pana perché tutti osanniamo me compreso perché tantissime cose che dice sull'euro sulla schiavitù delle banche le dice anche lui però poi dice che il signoraggio è una stupidaggine si dimentica questo vincolo particolare e se parli di banche o del fatto che il debito pubblico è una truspa ti dice ma se tu non parli in debito pubblico così credi i cittadini italiani che sono i creditori di quel debito pubblico cosa non vera o per lo meno vera solo in parte perché solo il 10% se non ricordo male del debito pubblico in mani privati l'altro è in mano alle banche o comunque agli speculatori quindi se l'Italia prendesse la decisione di non pagare il debito pubblico o per lo meno potrebbe decidere di non pagare quel 90% che è in mano agli speculatori e pagare con moneta sovrana il debito magari anche con gli interessi ai creditori che sono i cittadini come potrebbe essere qualcuno di noi i nostri nomi qualcuno che ha investito questo TFR eccetera quindi ecco scusami se credo di aver aggiunto qualche dettaglio che magari è un po' più chiaro perché sono sei esempi poi lo so magari dico tutto anche tu hai detto la parola forzario ma uno degli esempi che mi ha fatto capire questo concetto che sembra facile ma forse quando si ascolta prima volta non lo è di quanto siano forzati i banchieri è quello del tipografo lui ha citato la parola tipografo voi immaginate un attore un attore di teatro che vuole fare uno spettacolo magari qui a Bruderio allora va da un tipografo vuole stampati mille biglietti dalla tipografia perché lui dice io per gestire gli ingressi al teatro ci sono mille posti si fa stampare mille biglietti bene allora lui va da un tipografo gli ordina il biglietto e il tipografo gli dice cosa devo scrivere lo scrivo che ne so pinco bambino la data dell'evento eccetera ingresso 20 euro bene quando dopo tre giorni l'attore va a dirare i biglietti questi mille biglietti il tipografo gli dice 20.000 euro anche l'attore dice ma scusi come 20.000 euro ma io le posso pagare 10 centesimi va bene carta molto bella filiminata le pago 30 centesimi al biglietto ma perché le devo pagare 20 biglietti cioè il valore dei fondi cioè il valore del biglietto di ingresso ecco questo è quello che fa Draghi stampa della carta straccia colorata molto carina molto ben fatta e ce la va al valore nominale e ci chiede di restituire quello i soldi che sono un metro vengono praticamente prestati è come se noi dovesse misurare la lunghezza di questo tavolo e per poterlo misurare ci serve un metro che non abbiamo allora io vado da Fabio e dico Fabio mi presti un metro lui mi presta questo metro allora io misuro il tavolo tipo questo tavolo è lungo 2 metri e 20 centimetri e lui mi dice mi devi restituire il metro che ti ho prestato e mi devi dare anche gli interessi quindi per cortesia dammi 20 centimetri io 20 centimetri dove li vado a prendere visto che il metro l'ho appena restituito a lui e il metro ce l'ha solo lui nessun altro ha un metro da prestare per fare la disurazione e io questi 20 centimetri non li trovo mi dice non ti preoccupare taglia un pezzettino di tavolo taglia 20 centimetri di tavolo e mi dai quello la prossima volta altri 20 centimetri capite che a passi successivi mi ha fonduto tutto il tavolo questo qui quindi alla fine solo per avermi prestato il metro mi ha fregato il tavolo è la stessa cosa i soldi quando ci vadano lo stipendio quando compriamo qualunque cosa le banche prestandoci questi soldi ci fregano quello che noi con quei soldi potremmo comprare non so se sono stati banali stupidi questi esempi però credo che per chi magari non si avvicina sempre spesso a questi temi forse anche un esempio banale può essere utile per comprendere meglio grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te dei valori che in realtà sono dei valori positivi cioè che generano degli utili per esempio i conti correnti i depositi per loro sono considerati come delle passività però sono di fatto dei valori positivi perché? perché loro poi li riutilizzano perché poi ovviamente li investono e di fatto creano della moneta appunto col signoraggio secondario cioè quello che se va in banca dei depositi di 100 loro praticamente quel 100 lo fanno diventare per 5.000 cioè lo prestano per 50 volte quel valore e creano appunto denaro tramite la riserva frazionaria cioè tengono in deposito il 2% del depositato e il resto lo prestano e questo appunto è un problema perché come ha scritto in un libro il futuro delle banche Dino Galloni per fare un esempio è come che un gestore in un garage mette al passivo le macchine posteggiate cioè non ha senso praticamente di mettere come passività dei depositi o dei conti correnti e questo è quello che fanno le banche riguardo Mario Draghi vabbè lo sappiamo tutti il gruppo Viberberg e il gruppo dei 30 perché anche il gruppo dei 30 è ovviamente un conflitto di interessi notevole e poi sì il discorso della moneta al debito al debito pubblico il debito esplode il debito italiano esplode negli anni 80 90 quando c'è stato il divorzio tra Stato e Banca al di là delle spese improduttive e tutto quello che ci viene detto in televisione di fatto il debito pubblico ha trovato una sola ragione che è quella degli interessi sul costo del denaro quegli interessi che abbiamo pagato quando la Banca d'Italia ha smesso di essere d'Italia si è scissa dal tesoro dello Stato non ha più tutelato i titoli di Stato e lì il debito è esploso dal 57 il 27% del 1280 al 124 il 23% del 1294 cioè è più che raddoppiato e allora c'è qualcosa che non va perché? perché noi attualmente paghiamo degli interessi di circa 90 miliardi che stanno arrivando verso i 100 miliardi di interessi annui sul denaro su della carta che potremmo stamparci di nostro e questo è sempre nel 1260 l'iniziativa di Aldo Moro quando ha praticamente stampato i biglietti di Stato a corso legale Aldo Moro ovviamente è assurdo chiedere del denaro impresso da delle banche e indebitarci lui ha preso questa iniziativa però ovviamente quando tu hai togliato un potere così grande a degli istituti finanziari che da secoli oramai controllano il sistema ovviamente non può che fare una brutta fine e grazie alla rete comunque si sta diffondendo sempre più queste notizie perché le persone stanno iniziando a reagire cioè dicevo prima delle banche complementari in Lombardia se non è l'ho si è preso questa iniziativa della banche complementari prima prima di continuare questo tema delle momenti complementari lasciamo un attimo spazio al nostro portavoce europeo che voglio aprire l'aereo no scusate perché solo l'aereo alle 9 volevo intervenire in merito questo è uno dei nostri punti del programma europeo l'ultimo quello di coinvolgere i cittadini nella scelta se euro sì o euro no ed è molto importante appunto che si apra il dibattito e si parla di questi temi ed è molto importante appunto divulgare un po' l'informazione di tutte le campagne dal mio punto di vista allora ho fatto un intervento a Draghi proprio la settimana scorsa non so se l'avete visto dove appunto vado a dire al rappresentante la bce in audizione durante il dialogo monetario come appunto le manovre instaurate dalla bce dal 2009 ad oggi sono state totalmente inefficaci nei confronti di quelli che hanno mandato la bce e che diceva il primo e hanno trovato migliaia di miliardi per salvare la situazione di fallimento sistemico delle banche però non hanno trovato appunto il modo per foraggiare l'economia reale e quindi il denaro la moneta in questo caso stava andando a finanziare una bolla più che il sistema di mercato interno e quindi io l'opposto di fronte a questi dubbi e ovviamente l'unica risposta che ho saputo darmi è che dobbiamo consolidare il sistema bancario e poi dopo spregare in qualche modo la misericordia di questo ultimo finché presti i soldi però il punto qual è che io ho detto se noi non mettiamo delle regole come politica le banche che sono istituti privati che conseguono l'utile come obiettivo e non la misericordia non riusciamo mai a trovare la squadra di questo sistema e quindi la pecca secondo me del sistema è aver creato delle banche che se falliscono se fallisce un istituto sistemico compromette la stabilità del sistema e queste banche non sono pubbliche ma sono private e quindi hanno un potere grandissimo queste banche privati hanno un potere di potere anche coinvolgere le decisioni politiche e gli stati perché hanno un potere di ricatto è facilmente spiegato io sono un pochino più estrema hanno un potere di vita e di morte anche sulle persone perché Thomas Sankara Gheddafi Saddam Hussein Kennedy non ce la fanno con Putin perché è un pochino troppo furbo e un pochino troppo potente ma se potessero ammazzerebbero pure Putin quindi il potere è molto capo di quello tu come parlamentare europeo non ti voglio dire Draghi secondo te è un criminale seriale non rispondere lo dico io tanto l'ho già denunciato e spero che questo giudice stavolta apre le indagini e non le archivi come ha già fatto al di cui io spererei che non è un Draghi un criminale seriale di quelle basse così andiamo dal giudice e poi vediamo se ha ragione io a dire che è un criminale o se ha ragione lui a dire che io sono un disfamatore ma purtroppo so già che non dico la reale al limite magari no questo non lo dico perché non ho più per dire che stavo dicendo un sbagliato ma questo non posso dire però sicuramente non mi parlerà ma su questo sono finito scusami ma però capisco che quando uno studia molto il tema entra nella ragione del merito dei fatti del diritto di chi è la moneta tutto quanto si rende conto proprio di come ci stiamo prendendo in giro su molte cose e quindi giustamente uno non sa dove sbattere la testa perché viene estichettato come un complottista ma in realtà sta portando solo l'evidenza dei fatti quindi è fondamentale sollevare la coscienza delle persone far capire che la moneta è uno strumento che dovrebbe essere in dote al massimo alla banca pubblica che deve fare per seguire il bene e il benessere di tutti la banca pubblica che deve stare non deve essere in dote a un istituto privato perché se noi lasciamo la libertà di arbitrio a un privato ovviamente gli esseri umani sono abidi e fanno quello che vogliono noi dobbiamo regolamentare il settore e come dicevo prima il fatto che in Europa mettano a regolamentare un settore finanziario che è sistemico come diceva lui che ha creato una vola che è 15 volte l'economia reale perché il più reale del mondo sono 75 mila miliardi e invece l'economia finanziaria sono un milione di miliardi che sono i prodotti derivati di ABS tutti questi prodotti che servono a far fare utili solo al sistema finanziario perché un parentiere non compra l'ABS o fa questo tipo di attività e però è lui quello che genera economia e non la banca nello specifico che fa queste comunità quindi noi dobbiamo rendere politicamente un servizio adesso civile cercando di disinnescare questa bomba atomica che hanno creato con la finanza deregolamentata e poi riportare il tema della moneta e della banca pubblica nel nostro Stato cioè a Roma e con lei devono spingere secondo me a che questo diventi un mantra cioè diventi una possibilità e ovviamente ognuno avrà la sua campana e questa è anche la mia opinione personale poi i cittadini sparano le loro idee e andremo a votare appunto se ce lo permetteranno con un disegno di legge costituzionale con un indirizzo consultivo andremo a votare se mantenere l'euro o meno come moneta a misura della nostra economia io ripeto devo per troppo scappare perché ero l'aereo alle nove però è molto interessante il tema e vi invito tutti comunque se vi è molto piccolo che trovo per la testa andare a informarti su quelli che sono i temi della finanza delle banche dei regolamenti perché sono molto interessanti ovvio non fatelo troppo come salvo perché poi non dormite più e vedete guarda non sto per dire che io dormo come un angioletto perché anzi io ho due figli uno di 18 anni uno di quasi 15 e esco a dormire perché se morirò domani o fra 100 anni avrò una rossienza tranquilla sul letto di morte e abbraccio bene figli e dirò ragazzi io ho fatto il massimo per voi quindi ti giuro che ogni notte dormo in modo sereno quando non ho mai dormito prima di occuparmi di queste temi quindi parlato come l'altro di più di più grazie lascio l'ora un mattino così esporti un po' la situazione cerchiamo appunto di paremente lucrare su questi temi perché potrebbe arrivare appunto per quelli che sono che partecipano a noi che ho avuto la possibilità di decidere anche su quello che è la nostra sorta sulla moneta e dare un'opinione un'opinione con la democratica diretta che noi spingiamo dal passo grazie e lo porti a Bruxelles Fabius beh il problema che abbiamo capito diciamo è chiaro siamo siamo qui siamo vittime praticamente di un sistema bancario che utilizza e abuso di queste errate forme contabili perché poi è quello e noi appunto stiamo cercando delle soluzioni le soluzioni quali sono? Teoricamente è ovvio che la banca e tutto quell'istituto diciamo che privato dovrebbe essere presso pubblico perché perché il privato vive di segretezza riservatezza mentre il pubblico teoricamente dovrebbe vivere di trasparenza ora già che la moneta abbiamo capito essere comunque vitale a tutti noi di un sistema economico monetario è assurdo che sia stampata e creata a porte chiuse quindi apriamo le porte l'idea della moneta complementare è un'iniziativa che si è diffusa negli anni 30 dopo la crisi del 29 poi ovviamente purtroppo siamo arrivati alla seconda ora mondiale però appunto in quel decennio si sono diffuse queste forme di monete complementari essendo che l'uomo cominciava a capire negli anni 30 che alla fine non era da non mancare ma la liquidità la moneta hanno cominciato a creare queste forme per esempio in Svizzera c'è il Will che è nato nel 1634 o 1636 e che ancora oggi è utilizzato come moneta complementare c'è una moneta che affianca la moneta corrente cioè ricopre quei vuoti monetari è praticamente voi vuoti che vuoi assolvere la moneta corrente che è scarsa perché ovviamente i banchieri stanno abusando di questo perché mentre noi siamo sodomizzati non c'è liquidità loro stanno prendendosi la nostra azienda la nostra casa il nostro Stato e quindi è tutto diciamo c'è tutta una ragione ecco e quindi le monete complementari si parla anche della moneta comunale e anche la moneta comunale è realizzabile un comune può creare moneta ovviamente tutte queste forme di monete comunali regionali io per esempio in Sicilia stiamo lottando per il progetto Sicilia per l'inserimento della moneta grano aspettiamo che venga approvata perché ovviamente poi la decisione politica è quella urbina qui ci sono dei esponenti regionali comunali quindi possono loro stessi fare qualcosa per tutti noi e mirare a quello ovviamente con l'idea ultima della solità monetaria e un ripristino di una solità monetaria totale dopo di questo odiate i banchieri scherzo ovviamente allora dobbiamo chiudere domande pubblico domande pubblico ok si ce la c'è una poi c'è una anch'io eh è una anch'io però ah sì velocissimo praticamente chiedete nella situazione attuale è una degenerazione della moneta e poi della speculazione finanziaria vi chiedo come l'antidoto è una degenerazione della democrazia nella rete come siamo noi che magari vedremo poi nei prossimi anni i frutti vediamo come anche di tutto che ce l'abbiamo ecco può in qualche modo la rete aiutare a creare una moneta di tipo complementare come può essere bitcoin o qualche cosa che possa permettere ai cittadini di non avere che fare per il sistema finanziario lo speculativo non la voce non la voce ma facciamo le domande si no no io voglio dire al di là del fatto che se le banche non fossero private fossero pubbliche vabbè ma questo è un problema a sto dono io la domanda che volevo fare così da cittadino semplice ma mi sembra di capire che la famosa riserva frazionalia poi magari che consente diciamo dall'avere il 5% poter staffare il 95% di moneta e creare questa massa fittizia ma quindi mi pare di capire che è un problema di legislazione domanda perché non si può limitare questa possibilità alle banche visto che sono private non possono essere pubbliche dare questo tipo di limitazione se ne fanno allora io volevo sapere perché se c'è intenzione o come la vedete sull'MMT perché il contrasto contro l'MMT lo sa bene perché se è stato contrario il mondo signoraggista è totalmente contrario nonostante i punti comuni gli strumenti siano giusti per il momento della l'MMT lo sapevo perché non si riesce a trovare un punto di incontro grazie io ho un intervento poterla allora i nostri parlamentari nazionali e nazionali hanno messo da parte il periodo di un voletto perché noi in momento 5 stelle non rinno a farci una banca o addirittura una fondazione per potercene amministrare finalmente soddisfare e a realizzare quanto abbiamo promesso in campagna elettorale Banca Rothschild a domani la mia veloce ma tu arrivi dalla Sicilia sei uno di questi fautori della moneta complementare che si chiama Grano io l'ho richiamata Mela ma voglio sapere se hai appoggi dai movimenti politici in particolare dal mondo dell'associazionismo ma in particolare dal Movimento 5 Stelle se ti dà una mano non ho capito bene se è multiprovinciale o è proprio regionale il progetto grazie grazie l'ultima domanda una cosa volevo sapere com'è possibile recuperare quel 1500 miliardi o il 2000 miliardi per esempio i soldi aiutati dalle banche se c'è qualche soluzione nel senso denunce ovviamente grazie grazie mille iniziamo allora la prima domanda sul fatto di creare una moneta complementare di zonkola red si esistono appunto già le realtà esistenti appunto un'eternet anche la criptomoneda quella che riguarda le bitcoin per esempio il fatto di essere una moneta elettronica è un vantaggio teoricamente perché si riesce a controllare meglio gli esperimenti e le prestazioni che avvengono infatti la moneta mantemplata in Sicilia è una moneta elettronica cioè ormai con la diffusione della tecnologia siamo arrivati a utilizzare queste forme di monete appunto simili quindi si può utilizzare però il discorso della speculazione non è che avere una moneta virtuale la bitcoin eccetera possono essere diciamo esenti da speculazioni perché elettroniche sono pur sempre esposte a delle speculazioni se non controllate per come potosi dare quindi quello sì è una linea che si sta realizzando io sono d'accordo con l'utilizzo la moneta elettronica però ovviamente bisogna sempre il problema è sempre quello il controllo cioè se si controlla è meglio trasparente dove la società che se ne occupa è una società con delle corretti di vetro ed è tutto trasparente quindi per esempio nel bitcoin si usa una blockchain un registro pendrico dove le persone possono in qualche modo vedere i trasparimenti comunque ed essere partecipi non come la banca centro europea che è la opera a porte chiuse ovviamente sì quindi sono realtà esistenti e si può realizzare quindi quello sì poi la seconda domanda era sulla risola questionaria è un limite da un problema la legge teoricamente in passato la risoluzione era un problema quando la moneta era merce perché perché di fatto i banchieri abusavano di questo potere e creavano praticamente delle carte in eccesso allo scoperto quando dietro come corrispettivo non c'era alcun valore reale però sì però qual è la questione che la risoluzione non è negativa cioè se noi creiamo denaro allo scoperto e comunque la moneta come ho capito oggi essere un segno cioè a noi non importa che la moneta abbia l'oro intrinseco oppure ancorata a loro perché perché alla fine la moneta non è nient'altro che un documento contabile cioè quello strumento che ci mette in moto però è un potere d'acchisto che non può limitare i valori reali cioè per esempio lo Zimbabwe che magari non si ritrova ad avere l'oro non può non creare per esempio moneta perché è carente di oro quindi il fatto che la moneta sia un segno ben venga il fatto che sia scoperta cioè senza un corrispettivo dietro di oro eccetera ben venga però deve essere fatta sempre con un controllo pubblico e un interesse del pubblico cioè se adesso dovesse creare 100 miliardi teoricamente allo scoperto diciamo perché poi di fatto è che è